Io illustro la mia nuova manifestazione, si chiama l'Arte Sacre in Costi per gli Artigiani. Come vedete il mio punto fucale è quello di far rivalutare gli artigiani messinesi. L'artigiano messinese ha la peculiarità di riuscire a riprodurle con le mani qualsiasi oggetto, sia col cotone che con la maglia, che col ferro, che con le pietre, con qualsiasi specialistica noi riusciamo ad averla qua nella nostra bella mostra. La mostra l'abbiamo inaugurata ieri, l'ha inaugurata il dottore Breviti, il presidente del Consiglio. Devo dire grazie alle due associazioni che ci stanno ospitando, cioè quella del Santissimo Crucifisso e quella degli Azzurri. Ci hanno permesso di poter realizzare in questo posto così sacro, così bello e così piacevole per i messinesi questa mostra artigianale. Dobbiamo anche dire che la chiesa purtroppo è spesso chiusa e noi abbiamo voluto rivalutare, riuscendo ad aprirla, riuscendo a portare così i messinesi a visitarla. Saremo aperti anche domani e dopodomani e si concluderà questa mostra domenica sera alle 8. Mi auguro che vengano parecchie persone a visitarla.